Eccellenza, devo dire che questo decreto ci dà modo di trattare un argomento molto molto interessante perché di fatto parla e l'evoluzione del decreto, scusate della legge se non ricordo male del 2023 dove si era di fatto tracciata una base e questa diciamo è l'evoluzione per quello che riguarda l'università, la possibilità di accreditamento per gli istituti superiori privati e noi fondamentalmente non siamo contrari a questa modalità perché quando si può dare la possibilità di aumentare il bacino, la possibilità per i nostri studenti di avere altre scelte, altre facoltà, altri istituti, e comunque di poter attirare anche altri studenti qua, la creazione del famoso polo universitario. Quindi fondamentalmente non siamo, anzi può essere una strada interessante. Dall'altra parte però rileviamo in questo decreto alcune criticità importanti perché quando si parla di strutture già presenti in Italia e private che possono venire a San Marino, dobbiamo cercare di lavorare con i piedi molto di piombo, insomma cercare di stare molto attenti. Ecco, il primo tema, è il tema che hanno già trattato altri colleghi prima di me, è il fatto dell'accreditamento. Noi oggi abbiamo alcuni titoli, i nostri titoli non riconosciuti in Italia, mentre se vengono facoltà private italiane che sono già accreditate, queste potrebbero avere già l'accreditamento e questo è già un tema. Se noi abbiamo un'università pubblica che ha delle difficoltà non risolte sull'accreditamento fuori, ci portiamo dentro delle facoltà, delle università già strutturate che questi accreditamenti invece ce li hanno. Io credo che su questo va bene aumentare la gamma, però io penso che l'università che oggi abbiamo, pubblica, finanziata dallo Stato, che deve essere sviluppata, deve avere una sorta di precedenza, insomma, o comunque questo sviluppo deve essere in sinergia. Le università private hanno già l'accreditamento, allora a questo punto anche noi le dobbiamo già avere, altrimenti creiamo una sorta di concorrenza, permettetemi la volgarità, una concorrenza sleale in ambito universitario. E questo è il primo punto. Il secondo punto invece, forse quello più rilevante, riguarda la parte dei finanziamenti, perché nel decreto c'è scritto nero su bianco che le università private che potrebbero venire a San Marino possono avere finanziamenti pubblici. Ecco, e qui aumentiamo ancora la criticità, perché abbiamo da una parte un'università che è già finanziata totalmente da soldi pubblici, dall'altra parte abbiamo un privato che verrà finanziato con gli stessi soldi. Però qui c'è un problema. Le università private sono private perché in Italia hanno fondazioni, hanno X modi per essere finanziate. Allora se noi parimenti alla nostra università pubblica finanziamo anche quella privata, è chiaro che sbilanciamo ancora di più, quasi avvantaggiamo più quella privata che ha già dei finanziamenti rispetto a quella pubblica. Allora mi viene da considerare che è un'altra cosa, sappiamo benissimo oggi quanto vale il finanziamento del PNRR europeo per le università. Queste università godono già del finanziamento europeo e mi viene da dire che non avrebbero bisogno, se vengono qua a San Marino, anche del nostro finanziamento. Quindi sul finanziamento, eh sì, perché queste qui sono in Italia, sono. In Italia lo prendono il finanziamento, se vengono a portare la super sale qua, non è che qua le prendono in Italia ma possono girarli anche qua, ma loro, perché sono private. Non che prendano poi anche i soldi pubblici. Questo è il grosso tema. Quindi sulla gestione dei fondi noi abbiamo fatto dei finanziamenti degli emendamenti e poi il segretario ci darà le sue spiegazioni al fine di capire bene che se ci saranno finanziamenti pubblici questi non stridano con l'università pubblica vera, quindi che non vadano a discapito della università pubblica, perché sappiamo la coperta è corta e dobbiamo giocarla bene. In Italia o comunque l'estero queste università sono private, quindi godono di finanziamenti loro per X motivi e quindi noi che diamo finanziamenti pubblici a università private che potrebbero venire a fare concorrenza a San Marino, bisogna stare molto attenti. Poi l'ultimo aspetto, chiudo, che rilevo e forse è quello più preoccupante è il fatto che ha rilevato anche il collega Rossi rispetto alla possibilità di rilascio di questi accreditamenti, ovvero della concessione della licenza universitaria, chiamiamola in maniera volgare, ma è questo. Collega Rossi, lei ha detto che è il congresso di Stato? No, è ancora peggio, è la segreteria all'istruzione, nell'emendamento c'è scritto questo, che concede la licenza ad operare come università e questo capite bene non è possibile, questo non è possibile. Noi adesso stavamo valutando purtroppo la criticità che ha rilevato anche i colleghi, c'è sempre poco tempo per guardare tutto bene, questo è un decreto che è molto corposo, non abbiamo preparato un emendamento, ma su questo tema, rendiamoci conto, non può essere una segreteria di Stato, quella è l'istruzione, che concede le licenze. Non succede più, sono vent'anni, una volta c'erano delle vecchie prassi, forse giravano anche delle tangenti, queste le abbiamo abbandonate, spero, no? La segreteria di Stato che concede le licenze non può essere, è un ufficio pubblico, magari con un dipartimento dedicato per queste cose, perché ci vorranno anche delle valutazioni tecniche che magari un ufficio pubblico che ha solo carattere economico non ha, ma non può essere una segreteria di Stato che tutti gli anni concede, oppure rinnova, oppure fa disfa come gli pare, un argomento così importante, soprattutto perché è un mondo dove girano tanti soldi, per carità l'istruzione è un investimento e l'abbiamo detto, noi siamo favorevoli che la nostra università venga implementata sia quella pubblica che quella privata, però implementata significa che se vengono quelle private bisogna che un ragionamento sui finanziamenti pubblici ci venga fatto, perché se poi questi li togliamo al pubblico, li diamo al privato, capite bene che non sta in piedi, quindi ci sono tre elementi di forte criticità, io invito soprattutto anche i colleghi di maggioranza, insomma, siamo d'accordo sulle finalità, avevamo una base, diamo una linea di sviluppo sulle università private, però bisogna che lo facciamo bene, non basta farlo, bisogna farlo bene, bisogna farlo in una maniera corretta, quindi attenzione agli accreditamenti, attenzione ai finanziamenti e soprattutto attenzione a chi le rilascia, perché segretario, questo non lo dico contro di lei, non lo dico contro di lei, anche se fosse il congresso di Stato, le licenze non le può lasciare un politico, allora decade tutte le buone norme che abbiamo fatto in questi vent'anni anche contro la potenziale corruzione, poi quest'Aula penso che ci siano tutte persone oneste, però insomma un alone di trasparenza e dignità e soprattutto di forma sul rilascio delle licenze non può essere un segretario di Stato a rilasciare, grazie.